Si è parlato di Templari al castello Carriere di Drapia, un tema intrigante che appassiona da secoli non solo storici e studiosi, ma anche semplici lettori da sempre attratti dalla storia e dalla leggenda dei Cavalieri Templari, le cui vicende hanno oltrepassato gli stretti confini dei fatti per affiancarsi appunto alla leggenda, che li ha resi immortali, ripercorrendo le loro gesta, e affascinanti nel ricordo della tragica fine che si è consumata tra misteri ancora irrisolti. Proprio per questo molti studiosi e storici si dedicano ancora oggi ad approfondite ricerche che spesso si intrecciano, quasi a dispetto del doveroso rigore scientifico, a vicende romanzate in leggende antiche e moderne. A dare lo spunto per questo nuovo incontro, una tesi di laurea discussa all'Università della Calabria nel corso di laurea magistrale in Scienze Storiche, Dipartimento di Studi Umanistici, autore della tesi Giuseppe Lopresti, che non è solo un neolaurato, quanto soprattutto un sacerdote, coincidenza che ha reso ancora più interessante lo studio dedicato appunto ai rapporti tra i Cavalieri Templari e il Papato. Ad organizzare la serata la sezione Conte d'Apice di Vibo Valencia dell'Accademia Templare, sodalizio culturale che da anni opera dedicandosi alla ricerca storica, di concerto con il direttore del Museo Gallupi Emilio Minasi, che ha moderato un incontro e le cui conclusioni sono state tratte da Filippo Grammauta, rettore nazionale delle Accademie Templari, che hanno sede in tutta Italia ed anche all'estero. Un confronto a più voci su un tema intrigante che appassiona come sempre, che ha coinvolto i numerosi presenti, al punto che è stato espresso l'auspicio affinché si organizzino ulteriori iniziative culturali su questo tema, da svolgere in diverse sedi della provincia di Vibo Valencia.